Quando Socrate conversa con i suoi interlocutori, tutti peraltro convinti di essere competenti nel loro campo e quindi di sapere, ha un modo tutto suo di impostare la discussione, che è accattivante nel senso che gli elogia per le loro competenze ma allo stesso tempo dichiara la propria ignoranza. C'è un tale ironico che è rimasto iconico, Socrate l'antico, di lui ora ti dico. All'inizio si pone un gradino sotto gli altri, come chi desidera ascoltare e addirittura vuole apprendere dai suoi interlocutori, da chi li sta davanti. Ma poco dopo la situazione si ribalta e la sicurezza degli altri si sgretola sotto il peso delle domande di Socrate. Si sentono messi all'angolo dal momento che Socrate ne smonta le risposte. Non importa che siano generali, come nel caso di Nice e Lachete, chiamati a rendere conto del coraggio, oppure poeti come Loione che sono interrogati sull'origine del loro canto. Si procede così e uno dopo l'altro i suoi interlocutori cadono come birilli. Socrate davvero fa l'antipatico, ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Gli elogi sperticati vengono accolti come sinceri da Eutifrone, che in realtà è ingenuo al punto da non cogliere l'ironia di Socrate, che si dice impaziente di essere suo discepolo. E così, senza avvedersene, cade nella trappola che Socrate gli ha teso, e poi Socrate lo smantisce su tutto, ma al contempo però dichiara di aver fiducia nelle sue competenze e capacità. Alla fine Eutifrone si stufa della conversazione che non approda nulla, e quindi si allontana, preferisce andarsene. Ecco, Socrate è ironico e non è ironico. Sa di non sapere, non è ironico. Si dichiara ignorante rispetto alla vera sapienza, che è la Sofia che trascende quella umana, che egli peraltro dichiara di possedere in parte. È invece ironico quando? Quando esalta il sapere dell'interlocutore. L'elogio gli serve come esca per attirarlo nella sua trappola dialettica. E qualcuno dei suoi interlocutori non sta al gioco, e se la prende con Socrate perché pone domande senza offrire lui delle risposte, e si dichiara inferiore quando invece è chiaro che, dalla conduzione del dialogo, è all'altezza della discussione. Il sofista Trasimaco, nel primo libro della Repubblica, è addirato con Socrate per il modo irritante di fare di Socrate, che sta interrogando Polemarco sulla giustizia. Dove vi perdete con questi complimenti reciproci? Dalla tu una definizione, una volta per tutte. Sono le parole di Trasimaco. Gli sfugge, come Socrate precisa, che è reale la difficoltà di ricercare un bene prezioso come la giustizia. Ma Trasimaco sghignazza e riconosce la solita e ironia di Socrate, l'ironia che elude così le risposte alle domande a lui rivolte. Nell'apologia Socrate è consapevole di essersi attirato l'ostilità di tanti, perché alla fine sembrava che fosse lui il sapiente nel campo in cui confutava gli altri. E sa anche che se dichiara di obbedire ad un dio, sicuramente non gli crederanno. E penseranno anzi che abbia voglia di scherzare. Eccoci al punto. In tanti se la prendevano con Socrate perché scambiavano la sua ironia con la volontà di ingannare. D'altronde l'eironeia, l'ironia nel greco antico del V e IV secolo a.C., aveva un'accezione negativa. Dire eiron ad uno era come dargli dell'imbroglione. Teniamo conto che per noi oggi l'ironia passa per l'impiego di una certa mimica, gestualità o anche di un certo tono di voce che lascia intendere che siamo ironici. Chi ci ascolta capisce bene che stiamo usando appunto un tono ironico. Ma nel caso di Socrate l'ironia è più sottile, è dissimulazione e quindi l'uso è ambiguo, ambivalente. Certo resta un'ironia a fin di bene perché Socrate se ne serve per coinvolgere il suo interlocutore, per strapparlo alle sue certezze e offrirgli lo stimolo a procedere nella ricerca. Insomma, Socrate finge ma è sincero allo stesso tempo. Vuole esortare chi lo ascolta alla riflessione, a occuparsi di ciò che effettivamente conta, ad un'attitudine differente da quella di tutti gli altri uomini. Ecco, a condividere un po' della sua atopia, della sua eccentricità, ad andare oltre. E questo può in effetti dare fastidio.